... ... ... ... ... a modulo, un metro di discesa completato. Ok prosegui così. Stop a mind oster jack stop Ok, il rock si sposta sulla crua. Circolare difficoltà in questo momento per il pilota è il volare senza alcuna o con sparsissima visibilità. Ok, vento 16 nodi, 260 gradi e lunga circa un metro. La sospensione si è alzata dal fondo causa ad aver poggiato il modulo di recupero sul fondo. In questo momento, a parte qualche scarso sprazzo di visibilità delle telecamere, l'unico punto di riferimento per il pilota risiede nel sonar. Tutte le unità plancia, stringent, survey, tutte le marre sono regolarmente chiuse. Quindi ci prepariamo piano piano a salpare. Fino a quando non saremo completamente distaccati, la nave dovrà mantenere questa prua. Poi in caso di necessità da parte vostra ci chiederete una rotazione, altrettanto faremo noi da parte nostra. Fai un metro e poi ti fermi. Vediamo come siamo messi col roll. Verifichiamo il carico. Va bene, allora ti confermo che siamo a 5 metri dal fondo, quindi a tutte le unità siamo in sollevamento con il relitto dentro il modulo. Datemi il ricevuto, grazie. Strangiac ricevuto. Onde ricevuto. No, ricevuto. Navigazione ricevuto. Ok, perfetto. Ottimo lavoro. Andiamo avanti. Grazie.